Ryanair dopo essere riuscita a evitare lo sciopero dei suoi piloti in Italia, Ryanair deve ora fare i conti col personale di terra. Deciso a incrociare le braccia il prossimo 10 febbraio, i sindacati di categoria FIT CGL, FIT CISL e Will Trasporti hanno annunciato ieri la protesta per il mancato avvio di un confronto serio sui temi del contratto collettivo di lavoro e delle tutele sociali di tutto il personale. Secondo le tre organizzazioni sindacali confederali dei trasporti decisamente insufficiente C. che Ryanair, al DL delle dichiarazioni mediatiche, ha oggi messo in campo deve essere invece immediatamente avviato chiedono FIT e Will Trasporti un confronto a tutto tondo su salari e tutele di tutto il personale e non solo per una parte di questi. Non inoltre è accettabile spiegano ancora le tre organizzazioni sindacali confederali che sia l'azienda a scegliersi gli interlocutori sindacali. In totale spregio IP elementari principi di rappresentatività e di libera scelta dei lavoratori sanciti dal nostro ordinamento. E insomma, un'altra grana per la compagnia di Michael O'Leary che arriva a poche ore di distanza dall'avvio del confronto tra Ryanair e Anpac per un unico contratto nazionale di lavoro dei piloti valido per tutto il territorio nazionale, l'associazione professionale dei piloti e la delegazione della violinia irlandese al termine di un primo incontro tenuto sì marted e pomeriggio hanno concordato di rivedersi entro gennaio sperando di raggiungere entro questo mese un'intesa altro su MSN. Aeroporto Malaga. Passeggero Ryanair apre sportello e se ne va. Gazzetta TV. Sponsorizzato. Maggiore Maggiore Office 365 Home. Sconto di 20 se ti abboni per un anno. Sottoscrizione valida per 5 PC o Mac. 5 telefoni e 5 tablet. Aggiornamenti continui e 1 terabyte di cloud.